Ciao ragazzi sono Limoff e bentornati sul mio canale, oggi ragazzi sono qui per fare un video su Rainbow Six Siege dal PC ovviamente, sono stato lì che è a prendere la scrivania nuova, infatti ho fatto il nuovo setup non so tra quando farò il video del setup, appena sarà sistemato a dovere però sappiate che è il setup nuovo oggi alle 6 e mezza uscirà un altro video e faccio questo video giusto per parlare un pochino del mio canale allora oggi è 11 settembre, io non sono andato a scuola perché si dovrebbe andare a scuola ma io non ci dovevo andare perché dove vado io c'è allerta meteo quindi hanno chiuso le scuole da oggi in poi i video usciranno solamente alle... i video usciranno solo ed esclusivamente alle 6 e mezzo a parte qualche tipo di... a parte di tipo di qualche video speciale che devo caricare ok no sono un idiota che culo fatto una cazzata incredibile quindi da ora in poi i video usciranno 3 volte a settimana o 4 volte a settimana alle 6 e mezza non per problemi con il PC ma comunque per la scuola perfetto, secondo round cioè raga in un giorno si sono abbassate le temperature di un casino cioè ora abbiamo 18 gradi qua a Moratea in altre parti d'Italia ci saranno tipo 15 gradi tipo a Varese 15 gradi mi hanno detto i miei amici di Varese cioè in un giorno così in un attimo questi non vogliono entrare non fatelo morire ultimo attaccante rimasto in vita porco dingy me l'ha fatto spreca uno va bene in questo round non ho fatto proprio nulla, zero ora prendiamo sledge comunque domani usciranno i nuovi operatori stai zitto pezzo di merda state zitti domani usciranno gli operatori nuovi io li comprerò tipo 2 li vorrei provare forse li compro forse li shoppo quindi uno sicuramente lo compro però gli altri non lo so minchia come piove ma che pioggia è bello guarda qua guardate raga ma si è messo a piovere tipo tantissimo praticamente è entrata tipo l'acqua in casa però vabbè io ho una felpa enorme perché raga per me l'inverno è felponi comunque un saluto Eleonora perché indossa sempre i felponi porco due da dove cazzo è io vado là su no raga un operatore alleato rimasto oh non ho un cacchio di vita raga ma che faccio wow 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 gg vabbè ragazzi quindi io spero che questo vi sia piaciuto abbiamo vinto anche questa raga devo per forza arrivare a livello 20 perché non voglio fare più libere ma classificate quindi spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video mi raccomandoci a dare un bel mi piace ciao ragazzi al prossimo video